Novità poco belle in arrivo da Mediaset per tutti i fans della telenovela spagnola. La direzione è infatti deciso di cancellare, al momento in via definitiva, alcune fasce orarie della programmazione. In particolare stiamo parlando della puntata serale, vedremo infatti andare in onda l'ultima puntata mercoledì 13 dicembre. Perché questa decisione, semplice, dal 20 dicembre in poi si dovrà dare spazio a Vittoria, una nuova soap opera, sicuramente molto apprezzata. Ma che fine farà l'appuntamento serale del Segreto? In questo momento possiamo dirvi che non c'è nessuna notizia riguardante il suo ritorno. Anzi, ci saranno anche dei cambiamenti per le puntate pomeridiane. Infatti il Segreto tornerà ad essere trasmesso alle 16 e 10, non appena terminerà il Grande Fratello Vip. La puntata del sabato invece potrebbe essere anch'essa sospesa, per dare spazio ad Amici17. Questa notizia però deve essere ancora confermata. Grazie per averci ascoltato e metti un bel mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni.